Siamo con Luca Bezze degli Alcolic, qua invece abbiamo Filippo Armetta, Orange Juice, big match di questa undicesima giornata, serie B, girone B, sfida molto importante, cominciamo con voi Alcolic, 19 punti, quarto posto, ottimo campionato. Sì, ottimo, ottimo, adesso vediamo un attimino, dobbiamo recuperare la punta, ce la facciamo, che è in trasferta, poi oggi ce la giochiamo, purtroppo siamo pieni di infortuni, quindi di infortuni da tutte le parti, quindi dobbiamo sperare, oggi giochiamo per vincere, vedremo un po'. Voi secondo posto, 25 punti, anche voi sono un ottimo campionato, però bisogna continuare perché la stagione è ancora lunga. Sì, certamente sì, cerchiamo di migliorare sempre, come sempre, e fare un'ottima partita come sempre, abbiamo anche noi un po' di infortuni e speriamo di stasera di fare l'ottima partita e di vincerla, che noi siamo abituati. Qual è il vostro punto di forza? Se si può dire alla Versailles, dai. Portiere. Voi invece, a parte te, chi sono i prossimi punti di forza? Cante. Avete qualche bomba che segna tanto? Eh sì, lo metto dai a Gaetano. Bene, allora, datevi la mano insieme di Fairplay e buon Big Match. Grazie. 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 Grazie per la visione! Ehi! 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 Anche occhio, occhio! Un rischi di vento! Grazie. 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 E' un bel o no? E' un bel o no? E un bel o no? 4 o no… E' un bel o no? E venca parlo Grazie! Grazie a tutti. 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 27 insieme. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti.